bene facciamo una rapidissima demo della conferma di lettura e della risposta diretta ecco come vedete qui nel widget così come da opzioni generali sono entrambe abilitate ecco qua vedete conferma di lettura e risposta diretta ai messaggi e in applicazioni whatsapp che è quello su cui faremo la demo conferma di lettura e risposta diretta localmente è abilitato quindi passiamo a fare la dimostrazione whatsapp mario leggi o salta leggi whatsapp mario ciao rispondi o dimmi salta ripeti o aspetta cari saluti hai detto cari saluti invia ripeti o salta ripeti rispondi o dimmi salta ripeti o aspetta ti saluto caramente hai detto ti saluto caramente invia ripeti o salta invia inviato messaggio a mario grazie a tutti i nostri spettatori